ciao a tutti benvenuti e bentornati sul canale benvenuti in questo nuovo video dove vi faccio vedere due blind bag che ho preso nella magica bancarella tutta un euro ho trovato quelle blind bag grandi degli orsetti del cuore sono molto contenta perché come sapete mi piacciono tanto e queste blind bag ne avevo trovata solo una una volta in un'edicola e costicchiavano mi pare se non sbaglio 4,99 vediamo se c'è scritto allora qua c'è scritto 3,50 euro forse non è la stessa edizione non lo so perché mi pare che quando l'avevo preso io erano 4,99 euro quindi abbastanza e niente ne ho prese due questa così e questa così sono uguali e chissà che abbiamo trovato allora guardavo un po' nella checklist dietro aspettate che me la apro un pochino se vi ricordate io avevo trovato questo il leoncino praticamente mi piaceva vi avevo detto tanto amicorsa brontolorso carinissimo questo fortunorso e mattacchiorso gli altri più o meno però sono molto carini un po' tutti anche lui non è mare cuore brillante fatto tipo approcione e carinissimo non mi piacciono tanto questo che è tipo un pinguino non c'entra un cavolo con gli orsetti cioè con gli orsi probabilmente un loro personaggio non mi piace tanto neanche l'elefantino però vabbè e ovviamente non vorrei trovare lui perché già ce l'ho allora andiamo un po' a vedere che abbiamo trovato allora stavo guardando che qua c'è scritto 2019 quindi non lo so se erano gli stessi però io avevo trovato lui me lo ricordo bene e mi pare che la checklist era questa allora vado ad aprire con la mia super maxi forbice qua così vediamo perché dovrebbe esserci anche un libricino è allora libricino che cos'ha il libricino gli orsetti del cuore e ci sono un po di soliti giochini curiosità filastrocche giochi eccetera io sono curiosa io sono curiosa ah c'è dentro la ole oh che cute bello quello azzurro che si abbraccia che quindi è vediamo un po' dov'è dormi gli orso cute però un po troppo cute vado a spacchettarlo no mi piace cute da matti ah però non so mi piacciono anche questi orsetti del cuore guardate che meraviglia lo amo stupendo ha la luna e la stellina sulla pancia si sta abbracciando è tutto azzurro così chiaro ha un cuoricino sul chapette no vabbè lo amo bellissimo bellissimo dicevo mi piacciono anche perché hanno un qualcosa di vintage perché comunque diciamo che questo cartone è degli anni se non sbaglio anni 80 quindi non lo so mi piacciono veramente molto ha la base se viene su ok a cuoricino l'altro non so se aveva il cuoricino o aveva l'ovale adesso non lo ricordo mi pare che fosse un ovale mi sta venendo il dubbio che non siano gli stessi vabbè comunque super carino lui mi piace tantissimo bello 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 wow mi piace e purtroppo non ho più ritrovate queste blind bags non ne prendevo di più quella volta lì non ho preso solo due e però sarebbero da prendere veramente tutte dicevo che sarebbero da prendere proprio tutte perché sono talmente carine che sarebbe da avere tutta la collezione o almeno 5 o 6 insomma speriamo che non sia un doppione vediamo nella seconda busta che abbiamo trovato allora vabbè il solito libricino che non ci spoilerà niente ok non è un doppione vedo del rosa oh dio oh mio dio e amo rorsa ed è una meraviglia tra l'altro che coppietta carina fanno con quello azzurro no vabbè le amo troppo però mi sa ragazzi che non era la stessa serie perché mi sembravano più grandi gli altri quindi secondo me sono un'altra serie guardate che amore no vabbè allora come sempre la telecamera sfoca un pochino un pochino il colore in realtà è il classico rosa barbie avete presente rosa barbie quindi rosa normale qua lo accende leggermente di più però è bellissima anche lei ma allora tutti hanno il cuoricino sul chapette come dico io sono bellissime ma guardate che coppia cioè guardate che cute li amo come faccio bacino che belli anche lei ha il cuoricino come piedistallo anche questa cosa mi piace un sacco ovvero che abbiano il piedistallo perché molte volte queste figure non stanno diciamo che non stanno in piedi questi penso di sì perché hanno i piedini normali però vedete qua per esempio è rialzato quindi non so madonna mia li amo cioè bellissimi guardate qua adesso li mettiamo qua insieme carini comunque sono sempre più convinta che come ho detto prima non sia la stessa serie dovrei andarmi a rivedere il video dell'unboxing dell'altro orsetto per vedere perché secondo me sono un pochino più piccoli gli altri mi sembravano un pochino più grandi e magari i personaggi erano tipo simili però comunque sono stra felice stra felice di aver trovato questi allora ragazzi io lascerò i commenti lascerò il video diciamo per tutti e non solo per bimbini diciamoli così per non fare casini nel video però come sapete youtube ogni tanto decide lui quando vede queste cose cute e pucciosissime e quindi io spero che i commenti siano attivi guardate che bello io sono ossessionata vi giuro li amo forse mi piace di più quello azzurro tra i due però anche la rosa è bellissima quindi se i commenti saranno attivi fatemi sapere in un commento quale dei due è il vostro preferito e nulla come sempre iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti lasciatemi un bel like e se saranno attivi un commento qua sotto che vi leggo sempre tutti un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao